Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo nella città vecchia in via Duomo Angolo via Ponte Scuro, una città vecchia che dovrebbe rinascere ma una città vecchia che è molto carente per quanto riguarda l'igiene urbana. Da alcuni giorni non vengono rimossi i rifiuti. Maestro Giudetti, lei è l'anima della città vecchia. Cosa dice su questa situazione? A me mi dispiace tanto perché tutti i turisti, in particolare oggi, che è stato il giuramento, passano di qui, dicono quanto è bella tarta, però è sporca. E trovano questi rifiuti? Questi rifiuti che la quale, appunto oggi, pur per esempio l'altro giorno che non fa niente per dire, però oggi le dovevano prendere, l'immondizia perché passano tanti di quei turisti che dicono che la città è bella, è bella la città vecchia. Però guardano questo quadro, questo quadro... E giudicano male. E giudicano male. Ecco, ma da alcuni giorni quindi non vengono, non vengono rimossi i rifiuti. Un paio di giorni che non vengono. Allora i cittadini della città vecchia sono cittadini di serie B, vengono trattati da cittadini di serie B. Questo è male, pura pagano tutto. Qui aprono delle persone particolari per beni, aprono questi qua. Poi purtroppo i condinatori sono pieni e dove lo devono vedere? Le mettono a terra. Se loro prendono spesso questi condizioni, questi condinitori, allora vuol dire che i cittadini a terra non lo vengono. I cassonetti non vengono svuotati, traboccano e quindi chiaramente si creano rifiuti su rifiuti. Signor sindaco, non dobbiamo parlare di rinascita della città vecchia se poi stiamo, come si suol dire, o amunnezza, passatemi l'espressione. E l'amio non funziona, hai voglia che cambiamo i presidenti. La musica è sempre la stessa e la mondezza è sempre la stessa.